Il screening oncologico è un programma di prevenzione rivolto alla popolazione in determinate fasce di età. È un diritto della popolazione e a un livello essenziale di assistenza, cioè tutto quello che il Servizio Sanitario Nazionale deve garantire ai propri cittadini. Consta di tre esami gratuiti che sono la mammografia per quanto riguarda lo screening del tumore al seno, il PAP test per quanto riguarda lo screening del tumore del colo dell'utero e la ricerca del sangocultore delle feci per quanto riguarda il tumore del colon retto. Noi siamo felici di essere stati questa sera qui a Soveria Mannelli, di aver coinvolto la popolazione, di aver coinvolto anche i giovani. Siamo appunto sul territorio con il nostro tour della prevenzione, quindi andiamo proprio nei paesi più distanti o comunque più disagiati per coinvolgere la popolazione, sensibilizzarla e favorire l'adesione ai programmi di screening, che come dicevamo prima sono gratuiti e permettono di fare una diagnosi precoce. In termini di sopravvivenza questo è fondamentale. Per le donne di Soveria Mannelli sono stati inviati gli inviti per quanto riguarda la possibilità di fare la mammografia presso il presidio ospedale dei propri Soveria Mannelli che è stato dotato di un mammografo digitale con tomosintesi, quindi un mammografo di ultima generazione. Quindi tutte le donne che hanno ricevuto l'invito sono invitate nuovamente a partecipare a questo tipo di screening. Se non avete invece ricevuto l'invito potete aderire comunque spontaneamente, chiamato o presso il nostro centro screening di cui voglio ricordare i numeri di telefono 0968 20 89 83 oppure 0968 20 87 16 o contattarci all'indirizzo email centro screening chiocciolaasp.cz.it. Sarebbe ben felici di canalizzarvi all'interno del percorso di screening e prenderci cura di noi. Gli altri due programmi sono il PAP test che si può seguire presso il nostro centro a La Mezzia Terme o comunque il consultore di La Mezzia Terme. Per quanto riguarda invece il kit del colorretto, si può ritirare presso l'ambulatorio di patologia che avete qui all'interno dell'ospedale di Sovelia Mannelli. È un test molto semplice che si può seguire a casa, che non richiede una dieta per il quale diamo anche le istruzioni e quindi è semplicissimo da fare. Grazie a tutti.